Maratea non rischia nessun dissesto o disavanzo di bilancio, replica così il sindaco di Maratea Mario Di Trani al consigliere di minoranza Michele Manzi sulla recente approvazione del bilancio di previsione 2012. Il nostro comune vive un momento non dissimile a quanto si sta registrando in tutta Italia, ha dichiarato Di Trani. Abbiamo dovuto far fronte a 925 mila euro di entrate in meno a causa dei minori trasferimenti dallo Stato e alle maggiori spese. I problemi di Maratea, a concluso Di Trani, sono simili a quelli che hanno gli altri enti. Situazione che quindi ha portato a un incremento delle aliquote IMU, Tarsu e all'applicazione della tassa di soggiorno. A smentire il consigliere Manzi, anche l'assessore al bilancio del comune di Maratea Biagio Belvedere, che dati alla mano dipinge una situazione diversa. Il disavanzo di bilancio di 188 mila euro segnalato da Manzi è del 2010 ed è già stato sanato, non avendo più effetto sul 2012. Per quanto riguarda la liquidità di casse, il comune soffre come tutti gli enti italiani. Nei primi cinque mesi di quest'anno, infatti, Maratea ha ricevuto solo 218 mila euro di trasferimenti, somma che non riesce a coprire più di due mesi di stipendi. Per questo motivo è stato anticipato il pagamento della prima rata della Tarsu, la tassa sulla spazzatura. L'imposta è aumentata del 20%. Per quanto riguarda l'IMU, invece, i cittadini di Maratea pagheranno il 4,8 per mille sulla prima casa e il 10,2 per mille sulla seconda. Ci saranno però delle importanti agevolazioni. Sulle case date dai proprietari incomodato gratuito ai parenti di primo grado, l'aliquota applicata sarà dell'8 per mille, stessa aliquota per gli immobili affittati e per le aziende che costruiscono nuove case e che ancora non sono state affittate. L'agevolazione sarà garantita per tre anni, tempi duri per i comuni italiani e quindi Maratea non fa eccezione.